Nella giornata di ieri si è svolta una nuova riunione convocata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, con l'unità di crisi e con i rappresentanti del comparto Wedding sul territorio regionale. Questi ultimi hanno segnalato la grave crisi del settore e al termine dell'incontro è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso ma allo stesso tempo darà la possibilità di svolgere le cerimonie nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania. Dopo l'emanazione dell'ordinanza numero 74 ed il relativo chiarimento, un numero considerevole di cerimonie e di nozze si stava spospando fuori la regione Campania, con possibili conseguenze non solo sul piano economico ma anche sanitario relativo alla mobilità e alla carenza di controlli. Inoltre sul piano sociale, spiega una nota della regione Campania, è stato segnalato il rischio per gli stagionali rispetto al conseguimento degli ammortizzatori sociali. Alla luce di questo l'unità di crisi ha deciso di consentire, con forme di controllo più rigorose rispetto al precedente protocollo, l'organizzazione delle cerimonie di matrimonio senza dare al momento alcuna scadenza, se non quella di un esame periodico ogni 15 giorni con i rappresentanti del comparto della situazione epidemiologica. Nella giornata di oggi quindi sarà emanata un'ordinanza ad hoc nella quale verrà disposto tra l'altro che per ogni cerimonia gli organizzatori dovranno fornire obbligatoriamente le generalità di due responsabili, uno per le cucine ed uno per le sale. Ogni cerimonia dovrà essere inoltre segnalata in anticipo all'unità di crisi che a sua volta informerà le forze dell'ordine per poter effettuare controlli sull'osservazione dei protocolli già esistenti. Inoltre, a margine della riunione, con un forte richiamo al senso di responsabilità di tutti, si è discusso anche degli assembramenti notturni. I luoghi di aggregazione della Movida in tutta la regione saranno ancora più monitorati in questo fine settimana prima di ulteriori drastiche decisioni.